Buongiorno, benvenuti a questo convegno organizzato dalla Commissione Condominio e Locazioni dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Siete tanti, numerosi, vi ringrazio. Su 600 iscritti avete occupato praticamente tutti i posti disponibili. A riprova sicuramente dell'interesse degli argomenti che oggi andremo a trattare e anche della stima che evidentemente avete per i relatori qui presenti. L'Avvocato Stefano Giove, l'Avvocato Matteo Di Stefano, il Consigliere Avvocato Maria Agnino, l'Avvocato Luigi Mannucci, l'Avvocato Federico Bocchini, poi concluderà i lavori l'Avvocato Mario Pinchera. Colgo l'occasione anche per salutare il Consigliere Cagliafa, il Professor Cagliafa, che ci onora qui con la sua presenza. Prima di iniziare i lavori del convegno vorrei precisare, visto che siamo alla fine del 2022, che l'obbligo formativo relativamente all'acquisizione dei crediti si matura avendo conseguito 15 crediti formativi per quest'anno, di cui 3 debbono essere in materia obbligatoria deontologica, quindi 12 crediti ordinari e almeno 3 in materia deontologica. Vedremo che cosa deciderà il Consiglio Nazionale Forense, perché ancora noi siamo sotto legge della normativa emergenziale a seguito del Covid-19, tanto è vero che con delibera del 21 dicembre del 2021 il CNF, derogando a quelle che sono le disposizioni di carattere generale previste dalla nostra legge professionale, dal regolamento attuativo, aveva ridotto il numero di crediti da conseguire, sia quelli ordinari che deontologici, ma soprattutto aveva previsto la possibilità di acquisire i crediti via FAD, via telematica, non essendo possibile conseguire crediti in presenza fisica. Io esprimo un auspicio, anzi rivolgo una richiesta anche in questa occasione al Consiglio Nazionale Forense, affinché possa rendere definitiva la possibilità di acquisire crediti per via telematica addirittura al 100%, perché la disposizione generale prevede che al massimo via e-learning si possano acquisire il 40% dei crediti. Ma visto il particolare favore dei colleghi per questa formazione per via telematica, via streaming, io auspico che il Consiglio Nazionale Forense, anche per il futuro, renda definitiva la possibilità, in alternativa alla presenza fisica, di acquisire i crediti per via telematica. Detto questo, inizierei i lavori di questo convegno e darei subito la parola all'Avvocato Stefano Giove. Prego Stefano. Grazie, buongiorno anche da parte mia e un ringraziamento al Consiglio dell'Ordine che ci consente questi incontri periodici che sono sempre di particolare stimolo. Il mio intervento sarà molto contenuto nei tempi e questo tranquillizzerà oltre ai presenti anche tutti quelli presenti in video. L'occasione è stata data da una sentenza di quest'estate, la 22.826 del 2022 della terza sezione, in tema di possibilità di rinunciare all'indennità di avviamento semplifico in tempi coevi alla stipula del contratto. Forse qualcuno di voi ha letto il post LinkedIn di Federico che centrava il punto. Parto dal fondo. Il principio della Cassazione è questo. Un contratto di locazione, tranne evenienze particolari, teniamole da parte per un attimo, non è un contratto a formazione progressiva. All'interno del contratto si pattuisce la durata imposta per legge, parliamo di locazione ad uso diverso, si stabilisce il canone, libertà assoluta, altro profilo da tenere presente, ma non si può contemporaneamente pattuire un canone e poi diminuirlo a fronte della rinuncia dell'inquilino all'indennità di avviamento. Il principio è basato sulla regola dell'articolo 79, però vi volevo segnalare questo precedente che in realtà copia letteralmente per tre quarti un altro precedente del 2019, la materia era la stessa, perché presenta una critica serratissima, si usa tre volte la parola contagio, all'articolo 79, oggi in vigore solo per gli usi non abitativi, ritenendolo un residuato, bellico stavo per dire, il residuato storico ha ben oltre 40 anni dall'approvazione della legge che ha risentito dell'approvazione in contemporanea con le locazioni abitative e con l'ecocanone del 1978, il residuato storico tanto più a fronte di una modifica delle locazioni abitative viene il senso di una riconquistata libertà di quantificare il corrispettivo e parlo dei contratti 4 anni più 4, non ovviamente di quelli a canone concordato. Perché è significativa, oltre che per la critica dell'articolo 79? Perché consente questa decisione alla terza sezione di fare il punto della situazione rispetto a orientamenti quasi granitici, ma sottolineo il quasi, di fatti vengono esaminati, riportati, anche con accenni precisi alla singola tipologia di clausole, gli unici tre precedenti, 3, 95, 2005 e 2015. Si sottolinea Fiumicello nascosto di giurisprudenza contraria che ogni tanto viene fuori, tranne questi tre precedenti la Cassazione è univoca, non puoi rinunciare all'indennità di avviamento quando stipuli il contratto. Perché? Perché il contraente debole ha una tutela per ragioni ritenute meritevoli e quindi se noi consentissimo la rinuncia alla stipula, il conduttore, pur di stipulare il contratto, sarebbe disposto a qualsiasi cosa. Esagero un po', ma il senso è questo. Eppure c'erano stati tre precedenti che avevano ritenuto legittima la clausola di rinuncia coeva. Materia del contendere, la fattispecie anche se va letta più di una volta non è del tutto insolita. Il conduttore riceve la finita locazione, si rifiuta di uscire nonostante la previsione che vi leggero subito, il locatore è costretto a pagare l'indennità di avviamento quindi articolo 34, attenzione, primo comma a fronte dell'indennità di avviamento alla riconsegna delle chiavi. Dopo pochi mesi, capiamo anche la tabella merceologica perché viene citato il nuovo conduttore, il locatore loca a Tezenis e parte un'azione da parte del conduttore che dice mi hai dato l'indennità di avviamento, adesso mi devi dare il raddoppio. Si difende il locatore dicendo no, ho fatto male pure a darti la prima indennità di avviamento perché tu avevi rinunciato, quindi non ti dovevo la prima, a maggior ragione non ti dovevo la seconda. Rapidissimamente il tribunale dà ragione al locatore, c'è rinuncia di cosa ti lamenti, c'era pure una domanda di restituzione del deposito cauzionale che viene versato in corso di causa, quindi esce una sentenza che condanna il locatore a, guarda a memoria 2500 euro gli interessi sul deposito. Appello proposto dal conduttore la corte d'appello di Bologna taglia il male a metà dice sì è vero c'è la rinuncia, la rinuncia vale per l'indennità articolo 34, primo comma, ma non può valere per l'indennità del secondo comma, quindi se la tribunale ti aveva condannato a restituire quella che avevi preso io dico che in realtà quella del secondo comma dispreta ricorso da parte del locatore la rinuncia è buona entrambi i giudici di merito avevano citato guarda caso quei tre precedenti favorevoli il conduttore fa un ricorso incidentale mettendo al primo punto molto semplice, nullità dell'articolo 5 ma che dice questo articolo 5 pure scritto in italiano approssimativo lo dico per noi avvocati che predisponiamo le clausa qualora al momento della cessazione del presente contratto per qualunque causa ciò avvenga la legge in vigore lo ritenesse valido non è che mi sia chiarissimo il conduttore rinuncia ora per allora a qualsiasi indennità in quanto di ciò si è tenuto conto nella determinazione del canone di locazione è divertente andare a leggere l'articolazione di motivi dall'una all'altra parte perché si accusa la sentenza di appello hai detto indennità, indennità al singolare vi va a dire indennità vale per singolare e plurale e poi c'è qualsiasi che voleva dire rinuncia a qualsiasi indennità che non ti aspettava né la prima né la seconda la corte d'appello aveva aggiunto la rinuncia vale per la prima perché serve che sia alla scadenza del contratto non può valere per la seconda che è solo eventuale e quindi il qualsiasi andava un poco a farsi benedire la Cassazione in realtà copia e incolla in parte pure male un precedente del 2019 vi confesso io quello del 2019 e me l'ero perso copia e incolla in maniera non precisa perché non si capisce dove finiscono le virgolette dove comincia la motivazione del 2022 ma il succo del discorso che contiene uno strafalcione enorme per chi se lo volesse andare a leggere sta a pagina 9 e vi farò un accenno anche questo rapidissimo partiamo dallo strafalcione ve lo leggo dicevano nel 2019 mi sono andato a leggere la sentenza perché non ero sicuro che ci fosse scritta un'enormità di questo genere c'era scritta si discuteva ma l'indennità di avviamento è una reintegra di carattere economico o è meglio chiamarla una compensazione forse sì forse no forse l'uno forse l'altro considerato che non vi è il diritto a tale indennità se il rapporto ha raggiunto la durata prevista mistero il diritto sorge quando il rapporto arriva alla durata prevista perché ricorda anche la Cassazione se rinuncia il locatore prima non spetta se ci sono le evidenze previste procedura eventualmente di liquidazione fallimentare non spetta come non spetta articolo 35 in tutti quei casi in cui non è il conduttore che porta avviamento perché se è un'attività che si svolge all'interno di un aeroporto riceve avviamento e non lo porta qual è l'argomento determinante l'argomento determinante è quello della impossibilità di considerare torno all'affermazione di Princi da cui ho cominciato non è possibile considerare il contratto una fattispecie a formazione progressiva perché nella realtà non si verifica che il conduttore e il locatore stabiliscono un prezzo tutt'a più sarà il locatore che pretende quel canone guarda caso poi abbassandolo un po' se il locatore riesce ad ottenere dal conduttore la rinuncia a diritti che spettano al conduttore allora e quasi mi avvio alla conclusione il principio resta affermato e scoppito nella pietra l'articolo 79 è un residuato storico però fino a che non interviene il legislatore lo dobbiamo prendere per quello che è il conduttore è soggetto protetto al momento della stipula del contratto e questa sentenza ha il pregio di citare anche la miriade di altre sentenze che ammettono una rinuncia badate anche tacita alla scadenza del contratto al diritto all'indennità di avviamento quindi con un comportamento concludente perché dopo la stipula del contratto le posizioni che erano sbilanciate finiscono con ritornare sullo stesso piano la domanda che vi faccio è sostanzialmente questa giusto il principio in diritto era quello che era nel post linkedin non puoi contemporaneamente dire che il canone è 10 poi anzi è 8 perché il conduttore ha rinunciato a una indennità che forse maturerà solo alla fine del contratto ma la domanda è siamo sempre certi che non possa risultare altrimenti un accordo sul canone e che quindi la patruzione in diminuzione possa essere effettiva alla luce della sentenza tendenzialmente no però è questo il mio invito andatevi a leggere le fattispecie degli altri tre casi in cui la rinuncia era stata considerata legittima ve ne cito solo uno in particolare lì il canone stava nel contratto e veniva stabilito che venisse quindi diciamo il canone era 10.000 euro mese e veniva stabilito che poteva essere corrisposto in misura inferiore scomputandolo dall'indennità di avviamento che sarebbe maturata vi aggiungo un caso che mi è capitato a studio le parti discutevano sulla scadenza o meno del contratto al dodicesimo anno raggiungono un accordo non è scaduto quindi c'è un ulteriore periodo di sei anni e canone non poteva che essere quello precedente con un velatissimo accenno alla pandemia ne viene pattuita una riduzione a fronte della rinuncia all'indennità di avviamento quindi contratto scusate canone pattuito nel contratto oltre 12 anni prima alla domanda quindi è sempre possibile rinunciare solo dopo la stipula del contratto darei una risposta leggermente dubitativa ritorno al caso di uno dei tre precedenti vi ricordo 95 2005 e 2015 anche imporre al conduttore lo scomputo dell'indennità di avviamento con riduzione del canone inserito nel contratto può essere un trucco teso a strappare il consenso al conduttore che nel momento della stipula è sicuramente in una posizione debole concludo stavolta per davvero con una considerazione è vero che l'articolo 79 se mi avete sentito qualche volta per me sempre il faro è una norma di chiusura sì ma anche una regola interpretativa ogni volta che avete un dubbio sul fatto che si possa favorire il locatore il 79 vi dice no non è possibile ritiene però la Cassazione attenti che proprio in quanto residuato storico oggi ed è vero forse non si possa ritenere in qualche modo più tutelata l'attività del locatore rendita immobiliare rispetto all'attività di impresa di un conduttore che viva Dio ha almeno la stessa dignità quindi mi fermo e vi saluto dicendo leggetela con attenzione e andatevi a leggere i tre casi in cui la Cassazione aveva detto la rinuncia anche se coeva era legittima anche se stando a questo recentissimo precedente rinunciare insieme alla stipula non è possibile grazie 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 a Stefano Gioe per il suo puntuale e esaustivo intervento ha definito l'articolo 79 della legge 392 78 risalenta oltre 40 anni fa un residuato storico come non essere d'accordo e come non essere d'accordo sul fatto che se la razza dell'articolo 79 è la tutela della parte più debole e mi dovreste spiegare se effettivamente chi svolge un'attività imprenditoriale è parte debole rispetto magari a un piccolo proprietario che ha un piccolo locale che ha acquistato magari frutto dei suoi risparmi eccetera quindi sicuramente il legislatore dovrebbe intervenire sul punto grazie ancora avvocato Giove so che hai un impegno professionale quindi ti vorrei allontanare tranquillamente a questo punto la parola all'avvocato Matteo Di Stefano prego prego Matteo grazie non posso anch'io che unirmi ai ringraziamenti dell'avvocato Giove per quanto riguarda la partecipazione a questi incontri che sono sicuramente formativi come devo dire a conclusione del quadriennio si è rivelata a mio modo di vedere estremamente formativa la partecipazione alla commissione locazione e condominio mi ha dato l'occasione riconosco di approfondire talune tematiche e di studiare perché comunque anche dopo 30 anni di professione lo studio non ci deve mai abbandonare l'argomento che mi è stato assegnato oggi è l'esecuzione degli sfratti e la responsabilità della pubblica amministrazione per inatempimento tematica sicuramente ampia per cui chiedo anticipatamente scusa oggi seguirò una traccia scritta nel mio intervento perché voglio dire dopo 30 anni di attività nell'ambito delle esecuzioni il rischio di indulgere nella anedottica sarebbe stato troppo forte quindi questo avrebbe pregiudicato la linearità dell'esposizione ammesso che ce ne sia una e comunque una dilatazione eccessiva del tempo concesso quindi onde evitare richiami da parte del presidente seguirò una traccia scritta allora l'esecuzione è finalizzata come sappiamo tutti quanti alla realizzazione del contenuto precettivo del provvedimento giudiziale laddove ovviamente manchi la spontanea conformazione da parte del soggetto ingiunto e nello specifico visto che trattiamo di esecuzione di sfratto l'attività possa in essere dall'ufficiale giudiziaria fin della liberazione coattiva dell'immobile vincendo la resistenza passiva dall'unicasi anche attiva dell'occupante a fronte del quale si rende necessario e indispensabile l'uso legittimo della forza la materia è regolata nel codice di procedura dagli articoli 605 e seguenti 605 fino al 611 il quale è dedicato essenzialmente al recupero delle spese dell'esecuzione quindi una manciata di articoli la cui lettura superficiale potrebbe indurre in errore diciamo l'operatore posto che sussistono viceversa rilevanti difficoltà e l'attività che deve essere posta in essere è assolutamente complessa per pervenire alla liberazione dell'immobile a partire con l'attività che parte dalla notifica dell'atto di per avviso che segna oggi l'inizio effettivo dell'esecuzione mentre storicamente era il primo accesso dell'ufficiale giudiziario che faceva decorrere l'esecuzione sino agli adempimenti previsti dal 609 in merito alla gestione del mobilio eventualmente rindenuto e lasciato e relitto all'interno dell'immobile complessità non nascondiamocelo che non è null'altro che il riflesso e per certi versi la conseguenza dei rilevanti risvolti anche di ordine sociale che l'attività comporta tanto che siamo abituati da sempre a confrontarci con argomenti come emergenza sfratti emergenza casa nel cui ambito più generale vanno ricomprese non soltanto le esecuzioni di rilascio fondate su locazione o comodato ma anche le procedure di sgombero relative agli immobili sottoposti ad esecuzione immobiliare e gli sgomberi degli immobili indebitamente occupati tematica rave a parte che è la roba di questi giorni ma che non fa parte del nostro esame peraltro fenomeni tutti quanti nel complesso in forte ascesa purtroppo conseguenza di quella che è la crisi economica che attualmente ci attanaglia quindi rimanendo nel campo degli sfratti propriamente intesi sia come l'impressione per l'operatore che assista alla parte di trovarsi di fronte a un sistema che sia organicamente strutturato per rallentare piuttosto che velocizzare la realizzazione del dictum contenuto nel provvedimento giudiziale sensazione che riguarda un po' tutte le esecuzioni a dire il vero anche a volte a fronte di una produzione normativa che lascia quanto meno perplessi il riferimento corre immediato alla recente modifica in tema di pignoramento presso terzi alla tematica dell'avviso che deve essere data alle parti alla parte esecutata al terzo dopo la notifica dopo l'avvenuta iscrizione al ruolo e nell'ambiguità della formulazione normativa le incertezze interpretative che ne sono originate con orientamenti di formi fra di loro Milano ritiene una cosa Roma ne ritiene un'altra è atto dell'avvocato è atto dell'ufficiale giudiziario chi lo sa comunque queste difficoltà nell'ambito dell'esecuzione di glascio se possibile sono ancora di più amplificate senza considerare la possibilità che poi sorgano anche situazioni del tutto nuove inattese mi riferisco a un caso che è assurdo recentemente agli onori della cronaca di cui si è occupato il collega Bocchini convalida risfratto per morosità opposizione all'esecuzione fondata su che cosa fondata su un'istanza proposta leggo perché all'alto commissario per i diritti dell'uomo esensi dell'articolo 11 del patto internazionale su diritti economici sociali e culturali del 66 ratificata in Italia con legge 8.1 del 1977 quindi secondo l'assunto dell'opponente l'attività esecutiva finalizzata a rilascio avrebbe comportato un gravissimo pregiudizio per la parte in assenza di una ricollocazione abitativa il cui onere è gravante sullo Stato proposta l'opposizione il giudice nell'immediatezza ha sospeso inaudita altra parte salvo poi dopo all'esilo della competizione delle parti rigettare l'opposizione rilevando appunto che le raccomandazioni contenute nell'ambito di questi accordi internazionali pur ratificati in Italia non abbiano una immediata portata precettiva all'interno dell'ordinamento e quindi ha sdoganato l'esecuzione e nonostante ciò l'esecuzione ha vissuto uno stop di alcuni mesi con detrimento della parte istante altrimenti poco giustificabile ma a proposito di iniziative nuove e di nuove vie per cercare di tutelare la parte istante del rapporto vorrei fare una digressione solo apparentemente off topic rispetto all'argomento che oggi ci vede qui ricordiamo tutti che nel 2009 è stato introdotto nel nostro codice di procedura civile la norma di cui l'articolo 614 bis rubricata all'epoca era attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare è un'introduzione nel nostro ordinamento di un istituto di origine francese laddove è collegato all'ina al ritardo dell'adempimento o all'inadempimento all'applicazione di una sanzione da parte del giudice quindi in base a tale norma nel 614 bis il giudice ove richiesto quindi escluso la possibilità di un esercizio ufficioso del potere tranne che l'applicazione della misura risulti palesemente iniqua e per sentenze di condanna diverse rispetto all'obbligo di pagamento di somma di denaro può fissare una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione successiva o in osservanza ovvero per ritardo nell'esecuzione del provvedimento nella originaria formulazione del 614 bis il riferimento era specifico alle obbligazioni di fare infungibile o di non fare quindi una lettura sembrava precludere la possibilità di applicare tale normativa alle esecuzioni per consegno o per rilascio però nel 2015 la norma è stata riformulata è stata rimodulata e attualmente la rubrica è si riferisce alla individuazione di misure di coercizione indiretta da parte del giudice quindi questa modifica non soltanto terminologica ha aperto a mio modo di vedere lo spazio per un'applicazione della stessa nell'ambito dell'esecuzione di rilascio peraltro la particolare struttura dell'esecuzione consente di superare agevolmente le problematiche che viceversa in linea generale si sono poste per quanto riguarda l'applicazione pratica del 614 bis la cui criticità consiste nel fatto che l'efficacia precettiva l'efficacia esecutiva del provvedimento può essere messa in dubbio laddove non sia certo il numero delle volte in cui si realizzano le infrazioni o la quantificazione di ritardo quindi sostanzialmente il provvedimento risulta illiquido ricordo a riguardo che una sentenza del tribunale di Roma quarta sezione la 9884 del maggio 17 ha affermato che il giudice deve quantificare i giorni di ritardo nell'inadempimento specificando che ove le somme non siano determinabili con un semplice calcolo aritmetico il provvedimento non è autonomamente presidiato da efficacia esecutiva ma rifletto nell'esecuzione di rilascio ricorre proprio l'ipotesi del semplice calcolo aritmetico essendo certo tanto il dsa quo quanto il dsa ad quem specialmente esecuzione ultimata quindi nel tentativo di come dire trovare dei sistemi per pervenire a misure che possano esplicare una deterrenza nei confronti del soggetto esecutato quantomeno a fronte di situazioni in cui questa deterrenza possa essere effettiva vero sia in situazioni in cui ci sia una capacità patrimoniale dell'esecutato perché altrimenti la norma rimarrebbe fine a se stessa io ho provato a richiedere sistematicamente l'applicazione del 614 bis devo dire che il tribunale di Roma con sentenza 5782 del 24 2021 a firma del presidente Corrias ha accolto tale richiesta e ha condannato ai sensi del 614 bis parte convenuta al pagamento della somma di 50 euro al giorno per ogni giorno di ritardo nella riconsegna rispetto alla data fissata in sentenza peraltro rinvenuto anche un precedente del tribunale di Bologna negli stessi termini la sentenza 985 del 2018 quindi è precedente anche in questo caso per singolare coincidenza il giudice condannò la parte convenuta al pagamento di una sanzione di 50 euro al giorno non è che sia una misura fissa la norma lascia ampia discrezionalità tenendo conto della vicenda nel suo concreto e del valore della controversia ma comunque in entrambi i casi 50 euro al giorno però sia nel caso che ho avuto modo di patrocinare io nel precedente del tribuna di Bologna si trattava di sentenze di condanna nel mio caso era una convalida opposta quindi entrata nel merito a Bologna si trattava di un ricorso che già partiva ai sensi del 447 bis quindi si tratta di provvedimenti adottati all'esito della plena cognizio da parte del giudice orientamento diverso riscontrato a Roma per quanto riguarda viceversa il procedimento sommario nel senso che fino ad oggi non ho avuto nessun tipo di discontro positivo nella maggior parte di casi rigetto senza nessun tipo di motivazione particolare tranne in un caso in un caso il giudice ha assunto il procedimento in riserva e ha scioglimento della stessa ha così motivato l'ordinanza con la quale mi ha denegato il provvedimento denega la concessione della richiesta misura coercitiva ex articolo 114 bis atteso che la stessa non può essere applicata all'ordinanza di convalida di sfratto non essendo per legge tale provvedimento impugnabile ora onestamente io non ho compreso il senso di questa motivazione il collegamento fra la non impugnabilità dell'ordinanza di convalida e l'adozione di una sanzione quale quella stabilita dalla norma la motivazione quindi non mi ha convinto ma io come dire tengo la capa tosta e sono intenzionato a insistere in queste mie richieste fino a che il tribunale magari non muterà orientamento un po' come quando anni anni fa il collega Giove parlava di reperti archeologici tutto sommato anch'io comincio a appartenere a quella fascia d'età quando all'epoca esistevamo nell'opposizione alla concessione del termine di grazia nelle locazioni commerciali nonostante fossimo consapevoli che il tribunale di Roma le applicava le applicava de plano la misura però poi sono in terreno delle sezioni unite e le cose cambiano e quindi io confido che in futuro ci possa essere un rifezzamento però scherzi a parte la previsione del 614 bis si introduce nell'ordinamento una specifica ipotesi di condanna in futuro in funzione dell'ottenimento dell'esecuzione spontanea quindi della volontaria conformazione a diritto della condotta della parte inatempiente sicché la stessa si configura come istituto di applicazione generale in relazione non solo alle domande volte a ottenere una sentenza di condanna ma anche a tutti gli altri provvedimenti equiparati dalla legge alla condanna giudiziale come l'ordinanza di condanna che chiude il procedimento sommario in dottrina al Saletti così si è espresso nel suo commentario alla riforma del codice di procedura civile per chiudere la digressione va rilevato che attualmente il 614 bis può essere richiesto soltanto al giudice della cognizione e ne è esclusa la richiedibilità al giudice dell'esecuzione in questo senso c'è una sentenza a parte la formulazione della norma ma comunque c'è una sentenza della quinta sezione del Tribunale di Roma Presidente Ponte Corvo la 8.321 del 2020 però attenzione con la riforma in vigore dal prossimo anno sarà possibile con ricorso notificato l'atto di precetto richiedere l'applicazione di questa misura anche al giudice dell'esecuzione perché il 614 bis è stato riformulato dall'articolo 3,44 del decreto legislativo 149-22 quello che tra una fetta di Vanettone e l'altra ci dovremo studiare durante le vacanze di Natale tanto per fare una cosa buona quindi senza voler far polemica rilevo che la previsione della richiedibilità della misura giudice dell'esecuzione porti un ulteriore argomento che avvalora la connotazione di sanzione della misura legata al provvedimento di condanna quale esso sia rendendo mi perdoni il termine inconferente il riferimento all'appellabilità o meno dell'ordinanza di convalida contenuta nel precedente che ho sopra citato comunque chiusa la digressione tornando al sistema globalmente inteso che presiede all'esecuzione di rilascio devo osservarsi nel corso degli anni si è andato delineando un rapporto problematico tra articolazioni dell'ordinamento nello specifico potere giudiziario e potere esecutivo tutti noi siamo usciti dall'università col dogma del titolo esecutivo della formula esecutiva e casticamente raffigurata nel comandiamo apposto in calcio ai provvedimenti a parte il fatto che anche quello ormai comincia a diventare quasi un ritagio del passato perché con la riforma ci giochiamo anche quello però il richiamo altro inciso nell'inciso alla forza pubblica contenuta nel comandiamo si riferisce alla forza pubblica nel suo complesso non esclusivamente alla polizia di stato come nel corso degli anni ci siamo sentiti ripetere come se fosse un mantra inviolabile la forza pubblica ricomprende oltre alla polizia di stato carabinieri guardie di finanza vigili del fuoco agenti di custodia persone equiparate nonché tutti quegli organismi non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione diretta su persone e cose ai fini della sicurezza pubblica compresi gli agenti della polizia municipale tutti quanti noi sappiamo che il comune di Roma quando deve eseguire sgomberi si avvale della polizia municipale non certo della polizia di stato comunque sia a conferma di una lettura più ampia del concetto di forza pubblica contenuta nel comandiamo si può citare anche il recente protocollo di intesa siglato fra UNEP e prefettura di Roma nell'ambito del quale ai fini di una più diciamo profigua ottimale dislocazione delle risorse si fa esplicito riferimento anche alla possibilità di avvalersi dell'operato dei carabinieri però a prescindere da ciò qui entriamo nel vivo del tema il ruolo dell'amministrazione della pubblica amministrazione nell'attività di esecuzione è di supporto e di ausilio o il confine in passato rischia tuttora anche di sfumare nell'esercizio di una non consentita discrezionalità i meno giovani tra noi faccio nessun riferimento ricorderanno chiedo media ricorderanno il decreto legge 551 dell'88 per me è rimasto un chiodo fisso perché io ho cominciato la professione nell'88 quindi voglio dire ho esordito con questo decreto legge che all'epoca istituiva le commissioni perfettizie per la graduazione della concessione della forza pubblica agli sfratti con un sistema che di fatto è durato un decennio perché poi la norma è stata esplicitamente abrogata dall'articolo 14 appunto con l'introduzione della 431 del 1998 quindi è evidente il rapporto critico che si veniva a creare fra titolo giudiziario come andiamo in esso contenuto rivolto a chiunque e la pubblica amministrazione nella figura del prefetto che avvalendosi della detta commissione perfettizia di fatto subordinava quel comandiamo a una valutazione diversa e successiva rispetto a quella del magistrato all'epoca la corte di Cassazione ebbe a dare una lettura costituzionalmente orientata della norma al fine di dichiarare manifestamente infondata l'eccezione di legittimità che fu prontamente sollevata affermando che l'azione perfettizia non interferiva con la giurisdizione svolgendo un'azione finalizzata all'adozione di provvedimenti strumentali ed ausiliari rispetto a quelli propri del procedimento di esecuzione forzata di rilascio sono passati anni da questo pronunciamento della corte di Cassazione quindi oggi possiamo dire che tale argomentazione costituiva passatemi le espressioni riguardosa una bella arrampicata sugli specchi improntata a principi di realpolitik giusto per salvare quel tipo di organizzazione che era stato delineato però che quella fosse l'intenzione del legislatore cioè quella di creare un'effettiva interferenza del potere amministrativo sul potere giudiziario lo abbiamo constatato quando negli anni successivi furono emanati altri decreti legge mi riferisco al 443 del 96 non convertito e reiterato nel 172 del 97 con i quali veniva data un'interpretazione vincolante della 551 nel senso che la collaborazione l'ausiliarità la strumentalità dell'azione prefettizia venivano sconfessate a vantaggio dell'espressa previsione di un sostanziale differimento amministrativo ad opera del prefetto anche della singola esecuzione forzata con evidente incisione del principio costituzionale della tutela giurisdizionale dei diritti in quel caso ci fu un intervento della corte costituzionale perché con la sentenza 392 del 98 si affermò l'incostituzionalità del decreto legge 172 nella parte in cui prevedeva la possibilità per il prefetto di sospendere la singola esecuzione e si richiamavano ed avvaloravano i riferimenti fatti dalla corte di cassazione al principio di strumentalità quindi in un'ottica di non sovrapposizione però questo è il vero punto dolente l'interferenza fra pubblica amministrazione nell'esecuzione del titolo giudiziario interferenza che è stata codificata espressamente nel 551 dell'88 ma che in realtà è sempre esistita e purtroppo continua ad esistere pur dopo la cessazione della stagione delle commissioni prefettizie chi di noi mi domando non ha avuto la netta sensazione spesso suffragata anche da affermazioni apertamente fatte che i dirigenti commissariati si siano spesso arrogati il diritto di dirigere le esecuzioni imponendone tempi e travalicando la propria funzione di supporto ripeto la questione non era nuova nell'88 se è vero che già nel 1952 si rinviene un remoto precedente della corte di cassazione a sezione unite e la massima della sentenza la 2861 del 52 e così recita ve la leggo il giudice ordinario è competente a conoscere della domanda diretta dal privato ad ottenere l'accertamento del diritto di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione che mediante il sistematico rifiuto di assistenza della forza pubblica non rende possibile l'attuazione del titolo esecutivo cioè già all'epoca la corte disattendendo la tesi difensiva dell'avvocatura di stato che tendeva a derubricare il diritto in mero interesse strutturando il rapporto come esclusivo fra ufficiale giudiziario e pubblica amministrazione e quindi la tutela dell'incolumità dello stesso la corte di cassazione affermava la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo del privato fonte quindi conseguentemente di responsabilità civile da parte dell'APA ancorato al dovere della stessa di cooperare all'esecuzione e non già di fornire mera tutela all'ufficiale giudiziario ai fini della sua incolumità personale no si affermava proprio il diritto di cooperare per l'esecuzione del titolo e l'orientamento della cassazione va ricordato che da allora ad oggi è rimasto costante e non ha mai subito ripensamenti ho trovato sentenze del 58 del 67 dell'80 che riaffermano il principio che grava sulla pubblica amministrazione il dovere di cooperare recentemente la corte di cassazione è ritornata sull'argomento prima di questo richiamo una sentenza dell'88 perché singolare la fattispecie nello specifico anche in questo caso erano sezioni unite chiamate a pronunciarsi sulla tesi dell'avvocatura riferimento al difetto di giurisdizione che è stata viceversa accertata in capo al giudice ordinario ma all'epoca si controverteva di un ritardo nell'esecuzione dal 26 ottobre al 17 novembre 1972 meno di un mese e già a fronte di un ritardo del genere venne affermata la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione richiamo anche la 3873 del 2004 che fa chiarezza su quelli che sono i profili relativi all'onere probatorio e afferma espressamente che non è il privato cittadino che deve dimostrare che il linee fosse immotivato ma onera la pubblica amministrazione a dimostrare che la mancata assistenza della forza pubblica fosse ripeso da circostanze non imputabili alla stessa e peraltro introduce dei criteri di riferimento per la valutazione dell'attività della PIA nel senso che il giudice deve valutare l'eventuale indicazione da parte dei commissariati di date alternative rispetto a quelle fissate dall'ufficiale giudiziario il numero di volte in cui l'assistenza sia stata infruttuosamente richiesta la genericità o puntualità dei singoli motivi di diniego quante volte noi ci siamo trovati di fronte a verbali in cui l'ufficiale giudiziario ha detto non c'è forza pubblica perché perché non c'è evidentemente sono condotte non conformi a quello che è il dettato normativo quindi la recente sentenza del 2018 la 2498 che è stata anche oggetto di pubblicazioni di commenti peraltro ho assistito a un convegno cui ha partecipato il relatore il consigliere Rossetti proprio in quest'aula devo dire magistrato con una capacità di analisi e di esposizione assolutamente incomiabile che non ha costituito una novità perché si è inserita in un solco assolutamente consolidato però nella sua lineare motivazione ha delineato alcuni punti che mi sono notato che non posso non sottolineare 1 la natura del dovere della pubblica amministrazione costituisce espressione del principio di buona amministrazione di quell'articolo 97 della Costituzione 2 la situazione di crisi indotta dall'omesso apprestamento dei mezzi necessari all'esplodamento di una pubblica funzione e non abbiamo le risorse non può costituire fattore simente di responsabilità del danno ma può invece costituirne lo stesso presupposto cioè l'inversione del modo ordinario di ragionare la negazione questa è importante dell'assistenza integra in uno stato di diritto una situazione paradossale laddove l'ordinamento da un lato impone al cittadino di avvalersi dello strumento che è il processo che li metta a disposizione per tutelare il proprio diritto secondo un use ne cives ad arma ruant il famoso principio dall'altro però non gli consente la soddisfazione coattiva di tale diritto in sede esecutiva con la forza che solo lo stato può essere autorizzato a dispiegare poi i tempi moderni hanno fatto sì che ci fosse anche un richiamo immancabile alle fonti europee all'articolo 6 della CEDU laddove l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce il necessario corollario di diritto di accesso a un tribunale posto che lo stesso il diritto di accesso diventerebbe illusorio laddove gli stati membri permettessero che una decisione giudiziaria rimanesse lettera morta nella fase esecutiva e ultimo ma non ultimo l'affermazione quasi filosofica ma pregnante che si tratti di dare esecuzione a un ordine di ripristino dei segni di confine fra fondi miserrimi una lide bagatellare o di assicurare alla giustizia il più spietato bossa di una cosca sanguinaria all'estremo opposto la discrezionalità amministrativa cessa altrimenti per dirla con Pascal non rendendo forte la giustizia si finirebbe per rendere giusta la forza la 2498 afferma principi che quindi sono indiscutibilmente applicabili all'esecuzione di rilascio però va va ricordato che il caso la fattispecie sulla quale è stata chiamata a intervenire la corte aveva come oggetto un mancato sgombero di un immobile occupato sulla mancata adozione di provvedimenti da parte del prefetto e del questore per la realizzazione di un ordine di sgombero impartito dalla procura della repubblica al riguardo su questo argomento specifico ho trovato anche un precedente del tribunale di Roma la 21.347 del 2017 della seconda sezione affermante la sussistenza della responsabilità anche in questo caso mi avvio rapidamente alla conclusione onde evitare richiami da parte del consigliere Neste sul punto la materia degli sgomberi è stata rimaneggiata dal decreto legge 14 del 2017 prontamente rimaneggiato dal decreto legge 113 del 2018 in base a questa intervenuta normativa in caso di richieste di assistenza di forza pubblica per il rilascio di immobili da cui possa derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica l'autorità che vi provvede ne dà comunicazione al prefetto questi convoca il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica esteso alla rappresentanza delle regioni dei componenti e con questo organismo vengono coordinati necessario coordinamento per finalizzata l'esecuzione però e qui arrivano le dolenti note ove il prefetto ravvisi la necessità di definire misure emergenziali per la tutela di soggetti in condizioni di fragilità che non sono in grado di reperire altra sistemazione allogiativa sentito il comitato istituisce la immancabile in Italia cabina di regia estesa ai rappresentanti degli enti locali e degli enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica che è il compito di provvedere a fornire un parere entro 90 giorni decorsi questi 90 giorni il prefetto riferisce all'autorità giudiziaria facendo presente come si può intervenire o quali sono le ragioni che possano consigliare un differimento dell'esecuzione ai fini dell'adozione dei provvedimenti eventualmente di differimento che può arrivare fino a un massimo di un anno ove il prefetto abbia più richieste per una serie di occupazioni e noi sappiamo che a Roma il fenomeno è fortemente sentito perché leggevo recentemente sul giornale ci sono oltre un centinaio di stabili occupati si stima una popolazione di circa 8000 persone che alloggiano in questi stabili quindi il fenomeno è oggettivamente rilevante il prefetto è chiamato a stilare un cronoprogramma delle liberazioni sentito sempre la cabina di regia eccetera eccetera il meccanismo è quello e a fronte di ciò al soggetto titolare del diritto dominicale rimane soltanto la possibilità del ricorso al TAR all'esito del quale l'esito dell'eventuale annullamento del cronoprogramma stilato dal prefetto è escluso ogni forma di risarcimento ma è ammessa soltanto il risarcimento in forma specifica ovvero sia la declaratoria dell'ordine di provvedere immediatamente allo sgombero ben poca cosa tenendo conto che in via generale è rimesso al prefetto il potere di fissare un indennizzo non più un risarcimento nei casi di occupazione di immobili parte la responsabilità patrimoniale dei soggetti responsabili del reato di invasione di edifici vorrei ben vedere ma insomma mi sembra precisazione a quanto ultronea a quanto ai fini della pratica utilità del risarcimento del danno trattandosi di soggetti evidentemente privi nella maggior parte dei casi di capacità patrimoniale mentre il prefetto stabilisce soltanto un indennizzo parametrato indennizzo che decorre dal termine dei 90 giorni che è parametrato a diversi fattori fra cui tipologia di occupazione condizione dell'immobile ma che è escluso laddove il proprietario dello stesso abbia dato causa all'occupazione o quantomeno abbia concorso allo stesso condolo a colpa grave insomma e mi avvio veramente alla conclusione questa volta la razza di questi istituti qual è? è quella di far fronte all'orientamento consolidato della giurisprudenza che viceversa riconosce il diritto al risarcimento del danno e quindi con l'individuazione di questa normativa imbrigliare il risarcimento dello stesso quindi in un'ottica di risparmio e creare un ulteriore esempio di interferenza della pubblica amministrazione nell'attività di tutela giurisdizionale dei diritti si parla di occupazione di immobili quindi si sfugge dal concetto della singola occupazione però in riferimento a problematiche di ordine pubblica eccetera qualche dubbio almeno personalmente a me lo lascia ove fosse stabilito un intervento sul caso singolo ricordiamoci sempre della sentenza della corte costituzionale 3.9.2 3.2.1 del 98 che comunque esprime i principi a mio modo di vedere rimasti insuperati grazie 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 veramente all'avvocato Matteo Di Stefano per la sua esattiva relazione per la digressione sull'articolo 614 bis del codice di procedura civile l'avvocato Di Stefano parlava che è rallentata l'attuazione del provvedimento giudiziario ma non c'è dubbio che quando si tratta di provvedimenti di rilascio di unità abitative in particolare le disposizioni sono a volte a rallentare la tutela di un diritto pur riconosciuto giurisdizionalmente e questo francamente mi lascia abbastanza perplesso è vero che c'è l'esigenza di carattere sociale di tutelare quello che viene ritenuto e spesso lo è il soggetto più debole l'inquilino tanto per essere chiari che magari a fronte del rilascio di un immobile non ha la possibilità concreta di trovare un'altra idonea abitazione però scaricare il tutto sul cittadino il quale una volta che ha intrapreso un'azione giudiziale ha un provvedimento giudiziale con il comandiamo il famoso comandiamo e poi non vede tutelato il suo diritto francamente ci lascia un po' perplessi ed ecco quindi che la pubblica amministrazione in attuazione di quella che è una volontà politica di procrastinare il più possibile l'esecuzione di un provvedimento giudiziario in tema di rilascio di immobile poi si comporta di conseguenza frapponendo gli ostacoli che bene sono stati evidenziati dall'avvocato di Stefano grazie ancora per la relazione a questo punto parlavamo di convalida di sfratto ed ecco per quanto concerne l'opposizione qual è la possibilità di giungere a una mediazione e chi in medio del consigliere Maria Agnino che è maestra nel campo della mediazione ci potrà illuminare al riguardo prego Maria grazie Paolo grazie consigliere Nesta soprattutto ti ringrazio commossa per questo simpatico titolo che mi hai dato per la mia relazione di oggi però sono contenta perché era un po' di tempo sono un po' di mesi che mi occupo prevalentemente della riforma cartabia quella in particolare sulla mediazione in particolare sul rapporto mediazione processo e quindi era un pochetto di tempo che avevo trascurato il testo originario del 28 2010 che è il decreto legislativo che si occupa prevalentemente di mediazione e quindi sono contenta perché sono uscite fuori problematiche nei miei ragionamenti che era tanto che non affrontavo forse per abitudine e quindi mai essere abituati a niente anche alle prassi migliori per cui io comincerei con una riflessione cioè il 28 2010 prevede che una delle materie chiamiamole così obbligatorie e quindi che soggiacciono alla famigerata condizione di procedibilità della futura successiva domanda giudiziale è la locazione e questa è la regola generale quindi abbiamo una previsione della mediazione per le locazioni in generale poi abbiamo immediatamente una deroga e questa deroga è contenuta all'articolo 5 del decreto non è cambiata questa forse è cambiata la posizione ma è rimasto così il testo che la mediazione obbligatoria quindi la condizione di procedibilità non si applica nei procedimenti di convalida di sfratto nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto fino al mutamento del rito di cui è l'articolo 667 del codice di procedura civile e ovviamente altre materie quindi non pregiudica i cautelari non pregiudica gli ATP non pregiudica ci sono determinate materie che vengono tolte dalla condizione di procedibilità quindi che cosa vuol dire che il legislatore ha deciso di lasciare lasciare da parte una di rendere autonome diciamo così la mediazione vera e propria come condizione di procedibilità nell'apporto di locatizio poi vi dirò dalla mia esperienza che cosa è significato e che ormai sarà credo dopo 12 anni un'esperienza un po' obiettiva da parte di tutti e che cosa invece è stata la produzione anche giurisprudenziale della mediazione demandata delegata dal giudice a seguito del mutamento del rito perché le cose sono assolutamente separate sarò molto breve perché non è tema di questo convegno di oggi è evidente che anche e soprattutto in questi ultimi due anni quando è stata resa necessaria più che altro dalle condizioni oggettive di questo paese la possibilità di rinegoziare i canoni di locazione a seguito di inattempimenti da covid e non altri quindi questa è una materia abbastanza circoscritta quindi chi non poteva pagare l'affitto la locazione in generale i canoni di locazione causa quindi diminuzione di guadagni eccetera c'è stato un boom di mediazioni in questo senso perché primo perché erano bloccati gli sfratti e quindi si doveva andare per forza in mediazione ma soprattutto perché esperienza personale anche relativamente ad altre mediazioni perché poi ci ho lavorato tanto anche fini statistici anche per vedere se funzionava o meno e come funzionava in che misura questa procedura di rinegoziazione del canone utilizzando i criteri di buona fede correttezza equità contrattuale e via dicendo perché appunto si è visto come le parti preferivano cercare un accordo in mediazione invece che aspettare oppure aspettare innanzitutto che avvenisse lo sblocco degli sfratti oppure deteriorare i rapporti che magari erano buoni erano sempre stati buoni prima dell'inizio della pandemia quindi perdere un conduttore affidabile un conduttore che magari stava là da tanti anni e quindi c'è stato questo spostamento verso la mediazione ripeto obbligatoria per necessità mettiamola così anche perché poi la rinegoziazione del canone non trovava pagamento una volta registrato l'agenzia dell'entrata era esente da qualsiasi pagamento perché questa era stata una delle facilitazioni fiscali pur di favorire questi accordi ed evitare appunto che le situazioni potessero degenerare quindi lasciando da parte la fase della mediazione pura quindi condizione di procedibilità pura partiamo a questa simpatica mediazione nella convalida nell'opposizione tardiva alla convalida allora seguiamo l'iter del 28 legge del decreto legislativo 28 2010 antiriforma quindi questo tuttora in vigore perché la riforma della mediazione quindi la novella le modifiche al 28 2010 entreranno in vigore il primo luglio del 2023 quindi fino a quella data noi stiamo con il regime vecchio quindi con questo attuale ma anche nel regime diciamo così questo attuale quello che nasce appunto dall'originario 28 2010 sono stati fatti tanti passi avanti perché all'inizio inizio inizio i primi proprio primissimi anni della mediazione direi fino a 2013 2014 massimo 2015 vi erano due tipi due tipi di ordinanze che rimettevano alla mediazione al momento del che il giudice sempre nell'ambito della convalida che sia un'opposizione tardiva un'opposizione normale poco cambia perché il contenuto alla fine dell'opposizione noi presumiamo che se c'è stata un'opposizione tardiva questa se si è arrivata in mediazione è stata ritenuta valida quindi se il giudice ha deciso magari di sospendere la convalida e di mandare in mediazione per domande richieste anche riconvenzionali che ha portato il conduttore con la sua opposizione che sia tardiva o puntuale vuol dire che già siamo un pezzo avanti e che il giudice ha ritenuto che questo procedimento fosse mediabile per dirlo in termini semplici però per arrivare a questo che poi trova finalmente luce effettiva nella riforma che prevede che l'ordinanza che manda in mediazione debba essere motivata dal giudice le prime ordinanze che abbiamo avuto erano di default cioè il giudice mutava il rito e me le ricordo benissimo mutava il rito e mandava in mediazione magari con la convalida e basta quindi mi arrivavano in mediazione giustamente per evitare questa è un'altra problematica che a cascata viene dalla mancata partecipazione da chi scrive da chi non iscrive vediamo se riesco a parlarne però questo è un altro problema quindi giustamente mi arrivavano giustamente non lo so ma comunque le parti mi arrivavano regolarmente in mediazione io con tutta la buona volontà facendo anche le sessioni separate e cercando di trovare dei punti in comune dei punti di avvicinamento mi trovavo l'istante chiamiamolo così quindi l'intimante che aveva la sua bella convalida che ha detto a me non mi interessa assolutamente fare la mediazione io il mio titolo ce l'ho e non ho problemi anche quando provavo a lavorare su eventuali canoni di locazione non pagati eccetera e anche lì mi dicevano ma no io preferisco rinunciare anche ai canoni basta che mi si libera l'immobile lasciamo anche perdere questo perché ci sono delle mediazioni in cui si riesce magari a salvare il salvabile a trovare l'accordo se si riesce a recuperare il rapporto tra conduttore e locatore anche in questo caso però ci sono dei casi estremi in cui non conviene nessuno ha interesse a fare la mediazione qual è stato lo spartiacque lo spartiacque è stato appunto la problematica della condanna alle spese che seguiva la pronuncia sull'improcedibilità e questo avviene sia avveniva avviene sia per quanto riguardava le opposizioni normali quindi quando il giudice mandava in mediazione a seconda di quelle che erano le difese dell'opponente oppure oppure quando sostanzialmente si tentava si tentava una strada per procrastinare il termine del rilascio perché anche questo bisogna dirlo che cosa succedeva in quest'ambito innanzitutto ripartiamo per una lettura sistematica del 28 2010 che con la riforma è sparito non c'è più praticamente il giudice al mutamento del rito se si continuava a leggere l'articolo 5 nella parte in cui non prevedeva la mediazione obbligatoria appunto per i procedimenti di convai da disfratto andando sotto si legge il giudice su eccezione di parte assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione fissa alla successiva udienza fino alla scadenza del termine allora che cosa succedeva c'erano delle ordinanze che erano mandate così di default si mandava in mediazione e poi si fissava un'udienza successiva al termine di tre mesi perché tre mesi è la durata che la legge prevede per il procedimento di mediazione salvo richiesta congiunta delle parti per ampliare questo termine concesso dal giudice questo termine benedetto che è stato considerato questi 15 giorni sono stati io personalmente però perché perché faccio le mediazioni perché quindi ero abituata cioè è vero che è sbagliato però logicamente se uno ci pensa è chiaro che questo termine è ordinatorio e non è perentorio diventa perentorio quando la parte che ha interesse ad attivare la mediazione procrastina l'iscrizione della mediazione verso l'udienza perché allora certo che questa è una condotta che non è accettabile perché se la mediazione deve durare tre mesi è chiaro che prima l'attivi e meglio è perché se no poi sei costretto poi magari anche d'accordo con l'altra parte a richiedere lo spostamento e il differimento dell'udienza fissata dal giudice perché non si è fatto in tempo il procedimento di mediazione però veramente non avete idea di quante sentenze ci sono state sempre lì adesso gli ultimi anni sempre di meno perché si è stabilito che il termine di 15 giorni era ordinatorio e non perentorio però quante domande sono state giudicate improcedibili e quindi purtroppo sono saltate le cause per chi era attore per chi era istante per chi doveva essere istante anche in mediazione perché questo termine è stato definito perentorio all'inizio questi 15 giorni spariscono nella riforma e questo chiarisce anche un altro particolare che secondo me è oggetto di problematiche anche adesso e cioè che il giudice quando manda in mediazione può dire onerare invitare onerare la parte attrice la parte convenuta quindi la parte intimante la parte intimata può non dire niente e che cosa succede fino adesso la parte che era stata onerata quando c'è stata l'onere da parte del giudice la parte onerata iscriveva la mediazione normalmente aderiva anche la parte chiamata regolarmente perché magari a sua volta in giudizio aveva proceduto a domande riconvenzionali o altre domande a beneficio della stessa parte richiedente e quindi aderivano tutti e si fa la mediazione normalmente si può concludere bene si può concludere male si può pure concludere con accordo parziale ma insomma quello è l'esito della mediazione il problema era quando paradossalmente quando la mediazione invece quando il giudice non chiedeva non onerava nessuno in mediazione invita le parti a presentare istanza di mediazione e qui effettivamente le sentenze sono state tante ed hanno alla fine condannato alle spese per improcedibilità della domanda la parte istante o la parte chiamata oppure la sanzione maggiore che poteva accadere era quella dell'improcedibilità della domanda quindi la revoca della convalida la revoca di tutto la chiusura del procedimento e quindi la diciamo così la fine delle istanze sia dell'istante se aveva conservato la volontà di mantenere la convalida sia del conduttore si aveva proposto diverse domande e poi succedeva anche un'altra cosa quindi la regola è che la domanda o le domande vengono travolte travolte se non si rispetta la condizione di procedibilità perché questo perché una volta che il giudice manda in mediazione quella diventa una mediazione delegata dal giudice ed è obbligatoria in quanto delegata dal giudice non è obbligatoria ex se e scendendo nel pratico tu Paolo fermami a chi potrei parlare per giorni beh grazie scendendo nel pratico non lo so ho perso il conto comunque per rispetto degli altri relatori io sono abbastanza rigida la domanda che mi viene fatta più spesso è il giudice non ha deciso niente cioè ha mutato il rito ma non ci manda in mediazione che devo fare non lo so se voi è capitato questo a me ogni settimana mi arriva mi chiede almeno un collega che cosa deve fare allora qui le correnti di pensiero sono due se io leggo il decreto legislativo 28 2010 e mi mi ricordo di quello che ho visto e delle sentenze che ho letto non ce n'è una che parli di una mediazione che è stata iniziata senza senza che il giudice lo abbia richiesto tutte le sentenze che sanzionano una o due parti ma soprattutto una per non aver partecipato al procedimento di mediazione quindi da lì in procedibilità della domanda revoca di tutti i provvedimenti a favore eccetera eccetera sono stati oggetto di previo invito o onere da parte del giudice perché questo è chiarissimo con la riforma perché si parla sempre soltanto di giudice che manda in mediazione giudice che manda in mediazione giudice che manda in mediazione invece siccome forse il decreto 28 non era fatto benissimo prima ci sono stati dei casi in cui il giudice non ha detto alle parti andate in mediazione e quindi poi sono tornati in mediazione sono tornati in udienza prima dell'udienza hanno esperito autonomamente tentativo di mediazione terrorizzati da quello che potessero essere le conseguenze quando mi chiedono queste cose io dico secondo me la mediazione non la dovete fare perché se il giudice non vi manda in mediazione vuol dire che preventivamente ha deciso che non è una questione mediabile d'accordo tuttavia siccome non c'è giurisprotestimento univoca e non ve la potete rischiare perché poi eventualmente la sintesi peggiore sarebbe l'improcedibilità della tua domanda io forse la farei la mediazione medio tempore magari non succede niente però magari sì quindi nell'incertezza di una giurisprudenza certa io consiglio sempre nel dubbio se non dormite se vi interessa fate medio tempore la mediazione anche se non vi è stato ordinato che male non fa perché comunque fate vedere che il tentativo c'è stato che siete favorevoli avreste fatta tante considerazioni che si possono fare certamente diverso il discorso è se il giudice manda in mediazione bisogna andare in mediazione perché poi la sanzione è quella tristemente che conosciamo bene come ho detto prima più volte dell'improcedibilità della domanda un'altra cosa che succede ma questa è carina certe volte ma succede tante volte le parti sono talmente tanto terrorizzate prego sono talmente tanto terrorizzate che sia l'istante che il chiamato iscrivono la mediazione cioè quando niente e quando troppo quindi in questi casi o le iscrivono io lo so perché sempre appunto perché mi occupo anche della fase diciamo così amministrativa organizzativa ma sempre per curiosità mia per statistica perché voglio capire come funziona come funzionano le prassi anche i pensieri dei colleghi allora delle volte le iscrivono tutte e due all'organismo forense quindi a quello dell'ordine quindi io poi lì sono chiamata a fare i procedimenti di riunione e viene normalmente assegnata al mediatore a quel mediatore cui è stata assegnata la prima iscritta in ordine di tempo questa è una curiosità più che altro ma insomma sappiate che funziona pure così quando invece di solito scrive una delle due da noi scrive il chiamato perché evidentemente l'istante l'ha iscritta da noi quindi ci risponde l'avvocato della parte chiamata in mediazione e ci dice guardate vi ringrazio ma non parteciperemo al procedimento di mediazione perché abbiamo iscritta prima ma anche due minuti prima bastano quindi noi ce la mandano ce la legano normalmente la data l'orario di trasmissione della PEC e quindi chiudiamo il mediatore chiuderà quel procedimento perché la mediazione dovrà essere affrontata e trattata in un altro organismo questa è una cosa carina però quello che voglio dirvi è che non c'è assolutamente uniformità di prassi non c'è uniformità di non c'è certezza perché ci sono queste situazioni ancora adesso borderline perché non è molto chiaro ricordo il 28 2010 questo ha consentito degli diciamo così degli interventi giurisprudenziali molto diversi tra loro e non solo in questa materia e non solo rispetto a tribunale tribunale all'interno del nostro territorio nazionale perché se è letto tutto è il contrario di tutto tant'è che per esempio ve lo ricordo la butolia un inciso ma ci sono stati talmente tanti problemi che sono molto simili a questo della convaita di sfratto per quanto riguarda il decreto ingiuntivo cioè il giudice che manda in mediazione dopo il mutamento del rito se decide se non decide sulla provvisore esecuzione quando manda in mediazione quelle sono sicuramente delle delegate a cui bisogna partecipare è stato talmente tanto controverso chi doveva presentare la mediazione e tutte le strategie processuali sottostanti io la presento io non la presento che non vi sto ovviamente a raccontare adesso perché è chiaro che la riforma sulla mediazione ha previsto un articolo apposito che guardate che veramente cioè ricevendo questa cosa era talmente tanto un problema e ci sarà nella riforma un articolo il 5 bis che descriverà perfettamente chi dovrà presentare la domanda di mediazione all'esito del mutamento del rito come se dovrà seguire la procedura e quali saranno le conseguenze per chi non la segue scusate ma devo stare zitta devo stare zitta va bene non me lo dico da sola scusate ma io parlerei sempre per giorni quando parlo di mediazione grazie a tutti scusatemi grazie grazie alla consigliere Maria Agnino francamente si nota la passione per la mediazione da parte del consigliere Agnino però purtroppo abbiamo delle esigenze di tempo ci sono altri due relatori poi le conclusioni dell'avvocato Pinchera quindi necessariamente a mio malgrado devo essere un pochino diciamo rigido ma nemmeno tanto dai allora a questo punto darei subito la parola all'avvocato Luigi Mannucci che ci parlerà della prescrizione dei diritti del locatore sempre nel rispetto dei tempi prego grazie si cercheremo che gli argomenti sono tanti e cercherò di andare veloce però un ringraziamento ma sicuramente a Paolo a Paolo Nesta al consigliere Paolo Nesta al consiglio dell'ordine fatto parte di questa commissione sin dalla sua fondazione ovvero sin dalla sua fondazione ovvero dal 2006 e da allora mi avete sempre dato l'opportunità di farne parte di dare un contributo ma in particolare di imbibirmi io dei tanti interventi dei lavori fatti che sono oggettivamente tanti d'altro canto la materia in particolare quella delle locazioni di cui trattiamo oggi è una materia al quale il legislatore ha sempre prestato una particolare attenzione a cominciare dal legislatore del 42 perché gli articoli in materia di locazioni comprendendo anche gli affitti sono ben 84 addirittura più di quelli che sono dedicati come contratto tipico a quello della compravendita che sono 77 accenderemo il fuoco su partitamente degli specifici diritti che del locatore che si prescrivono in termini diversi con modalità diverse e quindi parleremo dei canoni parleremo della clausola risolutiva espressa parleremo degli oneri accessori parleremo del diessa quo perché ognuno di questi diritti poi ci avrà dei distingui in ordine al diessa quo al termine di decorrenza all'indennità di occupazione dell'eventuale diritto al maggior danno al diritto alla riconsegna dell'immobile e poi al termine prescrizionale che è normativo in caso di res giudicata e poi due chicchette diciamo di aggiornamento recentissimo giurisprudenziale sulle fattispecie che saranno trattate anticipatamente allora il contratto di locazione questo poi lo ritroveremo e come sempre per ricordarlo comunque è un contratto consensuale a prestazioni corrispettive di durata forse meglio ad esecuzione continuata ad effetti obbligatori i canoni i canoni cosa come sono disciplinati sono disciplinati dall'articolo 5 che poi è rimasto dell'arte legge 392 del 78 rimasto in vigore perché non abrogato espressamente dall'articolo 14 della successiva 431 del 98 che dice che salvo quanto presso l'articolo 55 che sarebbe il termine di grazia il mancato pagamento del canone dei corsi 20 giorni dalla scadenza prevista ovvero il mancato pagamento nel termine di previsto degli oneri accessori quando l'importo non pagato supera quello di due mensilità costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'articolo 1455 l'articolo 2948 inequivocabilmente ha disciplinato in particolare il numero 3 le pigioni delle case si prescrivono in 5 anni le pigioni delle case quindi è una prescrizione breve i fitti e beni russici e oltre altro corrispettivo di locazione la novità diciamo che c'è una una norma che è esattamente la legge 351 del 74 che è tuttora vigente ed è quella alla quale all'inizio parlando prima di dare corso poi ai lavori ho detto che avevo trovato sul sito del consigliere Nesta ed è l'articolo 2 ter della legge numero 351 che sancisce la nullità delle clausole contrattuali di corrisponzione anticipata del canone per periodi superiori a tre mesi ed è norma pienamente compatibile ci dice questa sto leggendo la massima di una Cassazione del 2008 pienamente compatibile oltre che con la disciplina della legge 392 del 78 ricordiamo il famoso articolo 84 che dice che venivano abrogate tacitamente tutte le norme che erano incompatibili con l'impianto della disciplina della 392 e anche in materia di locazioni di uso diverso dall'abitazione dovendo considerarsi pertanto di perdurante validità e ad essa riconoscere un valore integrativo di disciplina rispetto a quella introdotta nel 78 e questa è la Cassazione numero 14 470 del 30 maggio 2008 questo significa che non si possono prevedere pagamenti anticipati se non nulla con eccezione di nullità superiore anticipatamente ai tre mesi quindi nel caso del trimestrale poi c'è un termine noi sappiamo questo termine che ho letto prima dell'articolo 5 quello che prevede praticamente che il decorsi 20 giorni dalla scadenza però quello non è un termine prescrizionale perché se io non pago il canone di novembre nel quale ci troviamo adesso i 20 giorni sono il termine per poter dare impulso all'azione di sfratto per morosità o eccepire comunque l'inadempimento quindi quello decorre dal primo il 20 è un termine diciamo relativo all'azione l'altro argomento è quello della clausola risolutiva espressa la clausola risolutiva espressa che può essere eccepita o prevista ovviamente contrattualmente rientra è una clausola che ha quanto alla sua azione qui si vengono a contemperare o a contrastare due termini e la clausola risolutiva espressa rientra nella disciplina generale dell'articolo 2934 ovvero al di là dei diritti indisponibili che sono imprescrittibili di quelli espressamente previsti come tali rientra nel termine di prescrizione ordinaria decennale in quanto è un inedempimento a una clausola contrattuale che richiama a una clausola del codice civile ed è quindi un inedempimento contrattuale il termine però ecco qui si combinerà poi un qualcosa che si va a differire perché io c'episco faccio per dire la clausola risolutiva espressa e quella a validità dal momento in cui chi se ne vuole apparere in questo caso il locatore in caso di mancato pagamento dei canoni da parte del conduttore dal momento della comunicazione al debitore in questo caso conduttore la clausola risolutiva espressa quindi a decorrenza da quel momento poi a un certo punto siccome da quel momento poi la sentenza avrà una natura dichiarativa il procedimento avrà una natura dichiarativa e si differirà diciamo comunque rimane sempre il termine prescrizionale dei cinque anni è la invece la facoltà di eccepire la risoluzione del contratto che invece ha una natura decennale su questo richiamo una sentenza abbastanza recente che è sempre della Cassazione che è la numero 6386 del 15 marzo 2018 che dice il diritto potestativo di risolvere il rapporto in conseguenza dell'inadempimento di una parte quando sia prevista la calasola risoluzione espressa diritto che si esercita attraverso la manifestazione di volontà di avvalersi della stessa è soggetto a prescrizione ai sensi dell'articolo 2934 non trattandosi diritto indisponibile o comunque di situazione soggettiva per cui causa di estinzione si è esclusa dalla legge e l'inizio della discorrenza è il 2935 cioè il momento in cui si è fatto valere l'inadempimento ora passiamo ad un argomento che mi ha visto nella mia esperienza professionale particolarmente impegnato in una feroce direi battaglia tenutasi in questo contesto territoriale però che ha avuto poi tante trattazioni anche nella sede in cui ci troviamo ora ovvero nella Suprema Corte di Cassazione ed è il problema degli oneri accessori il problema degli oneri accessori ha avuto una innovazione importantissima con la legge 392 del 78 che dice all'articolo 9 sono interamente a carico del conduttore salvo patto contrario le spese relative eccetera eccetera ricordiamo che prima della riforma del 78 invece era l'esatto contrario cioè ove non era previsto per contratto gli oneri concessori non erano dovuti dal conduttore e questo ha fatto sì che si riteneva da parte di numerosi interpreti da poi ve le dirò le principali sia nel merito quindi in particolare sulla corte d'appello di Milano di Napoli dove leggeremo brevemente quali erano le motivazioni anche alcune cassazioni dei primissimi anni 90 e c'era però un contrasto un contrasto con una norma non espressamente abrogata che era il famoso articolo 6 della legge 841 del 22 dicembre 73 che dice il diritto a rimborso delle spese sostenute dal locatore per la fornitura di servizi a carico per contratti del conduttore si prescrive nel termine di due anni quindi per tanto tempo si è sostenuto in modo contrastante c'è stato un enorme contrasto a livello giurisprudenziale noi c'era stata addirittura la corte costituzionale che con una sentenza la 377 del 31 marzo dell'88 che riteneva che in ogni altro corrispettivo ovvero che non potevano non essere intesi gli oneri accessori gli oneri condominali rientrava nella disciplina della prescrizione equinquennale anche per armonizzare il corrispettivo ovvero avevano fonte nel medesimo rapporto contrattuale il canone si prescriveva in 5 anni gli oneri condominiali in 2 anni dicevano che l'articolo 34 della legge 39 del 78 non aveva espressamente abrogato la legge 841 del 73 partitamente nell'articolo 6 e su questo devo dire la verità io con piena convinzione portai avanti questa battaglia sul presupposto ecco c'era un orientamento la corte d'appello di Napoli e la corte d'appello di Milano erano granitici su questo aspetto perché dicevano che in virtù di tale legge ovvero della legge 39 del 78 gli oneri accessori sono entrati nominativamente quindi citando gli articoli 5 9 10 a far parte dell'obbligazione pecuniaria perché il 5 perché prima abbiamo letto che quando superavi nelle due mensilità era motivo di risoluzione del contratto parimenti al mancato pagamento di un cano nell'articolo 9 previsti normativamente e non più derogabili solo contrattualmente a far parte dell'obbligazione pecuniaria può staccare il conduttore a favore del locatore peraltro in virtù della tutela accortata credito quale si sume al combinato disposto alcuni articoli 5 e 55 quindi 55 che è il termine di grazia come sapete l'amorosità per oneri accessori diceva così la corte d'appello di Milano è ormai equiparata a quella per canoni dando luogo in entrambi i casi alla risoluzione del contratto anche attraverso il medesimo strumento processuale della convalida di sfratto questa è una sentenza che la 1746 del 96 che era passata anche in giudicato perché non andò anche in cassazione a questo punto ci sono stati detentennamenti anche dinanzi alla corte d'appello di Roma la quale diceva che la materia era controversa e pur nel rigettarlo ha praticamente compensato in molti casi le pese sia del primo che del secondo grado di giudizio ma il punto sul quale si discuteva in particolare e secondo me è rimasto un aspetto del quale ancora se ne discute perché la vicenda poi che cosa ha trovato ha trovato una alla fine una definizione normativa con il famoso decreto taglia-leggi che ricorderete del decreto legge 112 del 2008 pubblicato il 25 giugno del 2008 e in vigore dal 22 dicembre 2008 dal 22 dicembre 2008 è stata definitivamente ed espressamente approcata la legge 841 del 73 e quindi normativamente equiparati ai fini prescrizionali gli oneri condominati io ci sono alcune delle sentenze peraltro alle quali ho partecipato io che sono la 1953 del 2003 la 8610 del 12 aprile 2006 ne cito solo 2-3 la numero 8609 del 12 aprile 2006 dove praticamente si era creata ormai a ridosso perché li sto citando eravamo a metà del del 2006 e sostanzialmente i giudici aspettavano un intervento normativo un intervento normativo quando oramai obiettivamente gli argomenti posti a sostegno della della vigenza che quindi è durata 30 anni sopravvissuta la 841 del 703 tra l'entrata in vigore della legge del 78 perché solo nel 2008 è stata abrogata espressamente ma un punto fondamentale della vicenda che è ancora a mio parere attuale anzi lo è certamente è il concetto è il termine di esso a cuore perché noi abbiamo due fatti specie una che il locatore sia un condomino e quindi sia in un condominio uno che il locatore sia un unico proprietario dell'intero fabbricato nel caso di specie che trattavamo io assistevo un ente che quindi era per fabbricati del quale ne era l'unico proprietario e loro io ritenevo che c'era una eccessiva costrizione costipazione dei diritti del locatore ritenendo che il diessa copero la decorrenza era la chiusura dell'esercizio ma questo noi abbiamo il 1130 abisse in materia condominiale che ci dice che ci sono 180 giorni per l'approvazione del consuntivo cioè per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del consuntivo da parte dell'amministratore del condominio in materia mutuandolo nelle persone giuridiche di società abbiamo una previsione normativa che è il 2478 bis che lo prevede entro 120 giorni il deposito del bilancio ma in sostanza è impossibile che se un esercizio si chiude il 31 dicembre il primo gennaio il soggetto creditore si vede già la glessidra girare contro di lui e quando prima il termine era di due anni questo lo portava veramente ad una prescrizione di un anno e mezzo mi si rispondeva nelle discussioni avute anche in questo enorme palazzo che erano spesso crediti di minore portata rispetto al canone ma questo non credo che sia un argomento sostenibile perché non è la misura del credito che ne decide la tutela ma la facilità dice c'era una maggiore facilità di quantificazione no su questo non sono non ero e non sarò mai d'accordo nel senso che se c'è un contratto di locazione vigente e il conduttore è moroso per mancato pagamento di canoni credo che sia estremamente semplice se non paga cinque mesi moltiplicare per cinque il canone e sapere esattamente qual è la dimensione il carico dell'obbligazione cosa che invece nel consuntivo è impossibile proprio farlo il primo gennaio perché ad esempio la luce delle scale la forza motrice dell'ascensore l'acqua tante altre spese arrivano nel corso almeno dei primi mesi dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio quindi questa norma tuttora sotto questo profilo non fa un distinguo tra l'uniproprietario e il condomino facente parte di un condominio dicono perché il condomino non può decidere lui quando fare l'assemblea sì ma deve comunque per agire avere anche lui un consuntivo e sappiamo che la norma come ho appena detto il 1130 bis prevede che l'amministratore abbia 180 giorni perché per le ragioni che ho appena esposto chiedo scusa tre minuti ancora per la relazione allora ci dobbiamo accelerare per quello che riguarda indennità di occupazione c'è da fare un distinguo rispetto ai canoni perché l'indennità di occupazione essendo un inadempimento il contratto a quel punto è risolto quando indennità di occupazione quindi il termine di prescrizione è decennale quindi ai sensi dell'articolo 2946 il diritto così alla riconsegna è sempre un termine decennale perché tra le obbligazioni del conduttore c'è quella della riconsegna del bene alla scadenza del contratto in caso di resi giudicata ovvero anche di sentenza di condanna al mancato pagamento dei canoni c'è l'applicazione del 2953 ovvero il termine decennale a questo richiamato al problema temporale c'era solo un aspetto sul rilascio va bene quello sulla durata praticamente della sentenza di rilascio c'è giurisprudenza che ha rappresentato che se tu hai un provvedimento che dice nel 2010 una finita locazione con scadenza del contratto al 2012 i 10 anni decorono dalla scadenza del contratto non dalla sentenza ecco questo per chiarire invece volevo ecocitare queste due sentenze una molto interessante del 14 giugno 2021 la 16 743 che introduce questo principio che ne avrete sentito parlare di origine tedesca che è il verbirkjung in sostanza la rinuncia tacita all'azione e rapidissimo leggo il principio di diritto sia dell'una che dell'altra ma ritengo che siano molto importanti il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui l'articolo 1175 1375 direi 1385 del contratto le parti devono agire secondo buona fede legittima in punto di diritto l'insorgenza in ciascuna parte dell'affidamento che anche nell'esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata ciascuna parte si comporti nella costruzione in buona fede e dunque rispettando l'obbligo di solidarietà che impone a ciascuna dei parti agire in modo da preservare gli interessi dell'altra tanto da specifici obbligo contrattuali quanto dal dovere generale del nemine letter ne consegue che in un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo l'assoluta inerzia del locatore nell'escudere il conduttore per ottenerne il pagamento del corrispettivo sino allora maturato protrattasi per un periodo di tempo assai considerevole in rapporto alla durata del contratto e suffragata da elementi circostanziali oggettivamente idonei a generare nel conduttore un affidamento nella remissione del diritto di credito da parte del locatore per facta concluenza la improvvisa richiesta di integrale pagamento costituisce esercizio abusivo del diritto bisogna entrare nella fattispecie era una fattispecie in cui dall'inizio per sette anni gli avevano chiesto in un canone all'improvviso gli hanno chiesto i 250.000 perché a volte uno può anche pensare che giudici chissà che tangente hanno preso ma bisogna entrare però anche nelle siccole fattispecie concrete ce n'è poi un'altra recentissima per quello che ho detto prima dell'abrogazione della legge a questo punto rivive qualche cosa questa è la 27.015 del 14 settembre 2022 il relatore il consigliere Chiara Garaziosi che ha enunciato il presente principio di diritto il motivo pertanto deve essere accolto è un motivo si è eccepito in pratica nella abrogazione della coltaglia leggi del 2008 l'abrogazione della legge del 73 quindi tra biegno e quinquegno che alla luce del seguente principio di diritto qualora sopravvengano una nuova norma che prolunga un termine di prescrizione originariamente previsto ed è il nostro caso e se è applicabile se il termine risulta già avviato ma non ancora consumato cioè quindi è a cavallo ma non è ancora perché non sarebbe un diritto prescritto che non si può far rivivere mentre non lo è al termine già consumato qualora invece sopravvenga una nuova norma che abbrevia un termine prescrizionale la sua applicazione a un termine già in atto integra una retroattività non consentita dall'articolo 11 delle disposizioni preliminari leggi e quindi non si può far rivivere poi un credito già prescritto con questo ho concluso grazie grazie veramente all'avvocato Luigi Mannucci anche per aver rispettato i tempi anche per questi due ultimi riferimenti giurisprudenziali dei principi di diritto enunciati a questo punto last but not least l'avvocato Federico Bocchini prego anche tu hai i tuoi 20 minuti così lasciamo i 3-4 minuti per le conclusioni all'avvocato Mario Vincchieri intanto ne approfitto anche io per ringraziare sia il consigliere Nesta che la commissione locazione e condominio questo perché comunque è stato un ciclo quadriennale a cui faceva riferimento l'avvocato Giove in precedenza ed è stato un ciclo quadriennale che ha consentito in particolar modo qualcuno parlava di provvedimenti dell'88 dell'86 del 90 a chi magari è giovane un quadriennio del genere consente sicuramente un confronto importantissimo per la crescita professionale con colleghi di altissimo profilo e di questo dico grazie a tutti sono stati 4 anni nel quale è stato fondamentale anche poter andare ad analizzare tutte le novità che sono intervenute e concludere con un convegno sugli orientamenti giurisprudenziali è senza dubbio la conclusione di un cerchio siamo partiti dal nuovo accordo territoriale quando uscì nel 2019 ad un corso di 7 eventi siamo andati a monitorare tutti quelli che erano gli interventi che ovviamente la pandemia aveva portato anche a livello di incidenza su una materia che comunque come faceva riferimento prima il collega di Stefano parte da una normativa del 78 quindi ormai decisamente strutturata di ben 42 anni fa e oggi l'oggetto del mio intervento è comprendere se il legislatore può intervenire sulla tutela dei diritti ed in che modo ma soprattutto se la normativa tributaria può incidere su quello che è l'ambito civilistico cosa che per largo tempo ho fatto perché mi è stata assegnata la tardiva registrazione dei contratti il contratto orale quindi c'è stata un'evoluzione normativa dal punto di vista civilistico ma prettamente dal punto di vista tributario e le due argomentazioni si sono più volte andate a toccare e a inciderle un con l'altra partiamo dall'antefatto normativo che è quello del decreto del DPR 131 del 1986 che è il decreto di approvazione del testo unico sull'imposta di registro che è andata ad introdurre nell'ordinamento l'obbligo di registrazione dei contratti di locazione alla data di entrata in vigore della norma il contratto di locazione era a forma libera con l'unica eccezione ovviamente di quella della locazione immobiliare ultranovennale che permane ancora soggetta a trascrizione termine per la registrazione dei contratti veniva stabilito in 30 giorni dalla conclusione del contratto mentre per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani e di durata pluriannale l'imposta poteva e può essere ancora assolta sia per la singola annualità sia per l'intero periodo contrattuale con possibilità in caso di risoluzione del rapporto contrattuale di richiesta di rimborso ovviamente alla competente agenzia delle entrate da parte di colui che è andato a versare ovviamente imposta imposta di registro imposta di registro che poi è mutata anche su quelle che sono le modalità di pagamento perché per largo tempo è stato effettuato con il modello F23 ormai non più utilizzabile neanche più per i contratti di comodato poi passato per l'F24 ora finalmente siamo arrivati all'F24 elide editabile quindi con gli identificativi telematici e questo consente finalmente di non dover più portare ogni volta il pagamento o comunicarlo all'agenzia delle entrate in modo tale che con l'identificativo del contratto successivo alla prima registrazione esso possa venire abbinato direttamente al momento della registrazione nel primo periodo di applicazione la Cassazione enunciava il principio che il patto di simulazione relativo del canone di locazione abitativo stipulato in data coeva alla conclusione del contratto purché concluso per iscritto anche se non registrato non era affetto da nullità per violazione dell'articolo 13 della 431 del 98 anzi veniva considerato pienamente valido e vincolante fra le parti in quanto si andava a sottolineare che l'obbligo di registrazione non si configurava come un requisito del contratto come un suo elemento essenziale così come disposto dall'articolo 1325 del codice civile e che in ogni caso la sua violazione non sarebbe andata ad inficiare la validità del contratto o del negozio nei rapporti fra i contraenti d'altronde non si vedeva il perché la Cassazione dovesse pensarla diversamente all'epoca non c'era nessuna norma che sanzionasse con la nullità i contratti di locazione non registrati l'articolo 10,3 dello statuto dei diritti del contribuente aveva sancito che le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente di natura tributaria non potessero in nessun modo inficiare la nullità del rapporto contrattuale peraltro la corte costituzionale con la sentenza 333 del 2001 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 7 della 431 in quanto imponeva al locatore la dimostrazione dell'adempimento degli obblighi tributari come condizioni di procedibilità per l'esecuzione di rilascio in quel momento era stato già affermato dalla corte di Cassazione che la violazione degli obblighi fiscali o tributari che essi siano avevano rilievo esclusivamente nei soli confronti dell'amministrazione dello Stato ma non potevano incidere nei rapporti fra privati e contraenti non producendo né nullità del contratto ai sensi del 1343 o del 1344 del codice civile tanto che nel 2007 veniva dichiarato sempre dalla Cassazione che le pattuizioni contenute in un contratto che siano dirette a deludere in tutto e in parte la normativa fiscale non implicano di per sé la nullità del contratto stesso trovando nel sistema tributario eventualmente le relative sanzioni quindi qui si andava a regolamentare che un conto era l'ambito tributario l'altro era l'ambito civilistico due settori due binari che non si andavano a toccare ma qui il legislatore evidentemente avvedutosi che la norma del decreto presidenziale dell'86 non era corredata da una norma di sanzione effettivamente efficace interveniva nuovamente con una norma decisamente impattante l'articolo 1,346 della legge 311 2004 cosiddetta chiamata finanziaria del 2005 e qui che diceva che i contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento di unità immobiliari o di loro porzioni comunque stipulati sono considerati nulli se ricorrendo nei presupposti non vengono registrati la norma veniva applicata esclusivamente ai contratti stipulati dopo il 10 gennaio 2005 anche su questo prima c'erano stati degli interventi giurisprudenziali e poi è stato considerato abbastanza pacifico obbligo della registrazione che veniva previsto per tutti i contratti di locazione anche quelli ad uso transitorio o per studenti universitari con la sola esclusione dei contratti affitti brevi un piccolo inciso visto che qui tutti hanno fatto un inciso con questa terminologia affitti brevi che spesso viene confusa dagli operatori non tanto agli avvocati ma in particolar modo dagli operatori del settore immobiliare prettamente dagli agenti immobiliari viene considerata la locazione di case o porzioni per finalità turistiche regolate dall'articolo 53 del codice del turismo cosiddetto decreto legislativo 79 del 2011 che va a disciplinare le cosiddette locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche secondo quelli che sono gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche in qualsiasi luogo ubicati spesso viene fatto ma in questa cittadina si può fare non ci sono differenziazioni e sono regolate dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile qui un elemento importante che incide dal punto di vista tributario la soglia dei 30 giorni di durata dell'allocazione superata la quale scatta l'obbligo di registrazione presso il competente ufficio delle entrate deve essere considerata in maniera complessiva e non per affitto o per singolo affitto non è che sia affitto a Maria Agnino per 30 giorni e a Paolo Nesta per altri 30 giorni non ho questo obbligo perché non li ho superati ma è la accumulabilità dei contratti di locazione all'interno dello stesso periodo annuale quindi se faccio 5 contratti da 7 giorni che mi porta a 35 giorni inevitabilmente scatta l'obbligo di registrazione del contratto di locazione è inevitabile che la mancata registrazione o il mancato obbligo di registrazione comporti ugualmente l'obbligo di dichiarazione dei canoni effettivamente percepiti ma questo è per evitare proprio per il DPR sull'imposto registro di andare a spendere dei soldi per un imposto registro per contratti estremamente brevi di 5 di 6 7 giorni che sarebbero inevitabilmente delle somme spese per il locatore e per il conduttore altrimenti evitabile ma qui arriviamo ma e capita spessissimo nei giudizi di convalida troviamo delle opposizioni fondate sulla mancata registrazione dell'annualità successiva alla prima e visto che ognuno ha portato un po' del suo a me è capitato e adesso anche in corte d'appello nonostante sia stato sia nel giudizio di convalida c'è stata un'opposizione perché la mancata proroga del contratto di locazione secondo il collega in questo caso inficiava la validità del rapporto contrattuale è stata rilasciata l'ordinanza di rilascio è stata fatta sentenza ovviamente nel procedimento di merito adesso siamo in corte d'appello per la stessa identica cosa ma qui bisogna specificarlo in modo chiaro su questo ormai è giurisprudenza pacifica non c'è discorso ondivago non sussiste l'annualità del contratto di locazione regolarmente registrato all'atto della sua stipulazione e per il quale non sia stata versata l'imposta di registro per alcune annualità successive alla registrazione stessa l'unico elemento fondamentale è la prima registrazione le annualità successive o la proroga sono automatiche quindi sono posizioni decisamente e qui ci si potrebbe ritrovare in mediazione come diceva il consigliere agnino ma sicuramente con poco fondamento i 30 giorni per la registrazione l'articolo 13 della 431 fissa in 30 giorni il termine indicato come termine perentorio per provvedere alla registrazione ma qui l'agenzia dell'entrata ha fornito indicazioni sul punto stabilendo che il termine predetto decorre da quale momento dalla data di stipula o dalla data di decorrenza e qui ormai anche qui è il momento più antecedente rispetto a quello cioè tra le due date e la data antecedente che vuol dire che se stipuliamo un contratto con decorrenza primo dicembre 2022 ma lo stipuliamo quest'oggi presso quest'aula 8 novembre i 30 giorni decorreranno chiaramente dall'8 novembre quindi non dalla data successiva altro inciso la cura Italia e la sospensione dei termini perché perché c'è stato un periodo particolare che è derogato dalla normativa generale e questo è stato con il decreto legge 18 del 2020 il cura Italia per cui il termine se veniva per la registrazione dei contratti veniva ricadeva nel periodo fra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 i termini per la registrazione e il versamento dell'imposta di registro venivano prorogati direttamente fino al 30 giugno 2020 e su questo c'è stata anche la circolare 8 e nell'agenzia dell'entrata del 3 aprile 2020 che è andato a confermare per quanto concerne la registrazione sono modificate un pochettino prima di entrare nella parte di diritto e su alcune interventi proprio giurisperenziali l'avvocato Agnino faceva riferimento prima alle modifiche della registrazione che ci sono state prima lei faceva riferimento alle riduzioni canone modifiche sulla registrazione che sono ormai avvenute in modo abbastanza tempestivo perché se prima della pandemia c'era l'obbligo della registrazione telematica esclusivamente per coloro avessero almeno 10 fabbricati sul territorio nazionale adesso è consigliabile a tutti considerato che non è più libero accesso all'agenzia delle entrate ma serve comunque prodare il ticket tramite lo speed per andare a registrare il rapporto contrattuale oppure tramite l'entrata come si utilizza oppure adesso è possibile anche inviare una PEC presso l'agenzia delle entrate purché ovviamente esso avvenga entro i 30 giorni del termine della registrazione e all'interno della PEC ovviamente questa deve essere corredata dei necessari modelli RLI documento di registrazione eventuale pagamento qualora non si opti per l'imposta sostitutiva della cittadale secca e contratto regolarmente sottoscritto una piccolissima chicca era quella della remissione in bonus un istituto che era intervenuto a seguito del decreto legislativo 23 del 2011 nessuno ne ha fatto riferimento ma non ci dimentichiamo quando si andavano a registrare i contratti verbali all'agenzia delle entrate o quando il conduttore aveva la facoltà di andare all'agenzia delle entrate e dire io pago di meno rispetto è dichiarato di meno sul contratto rispetto a quanto pagavo e l'agenzia delle entrate ci trovavamo con tre volte la rendita catastale come canone anno quindi elemento veramente impattante poteva essere questo e chiaramente la tardiva registrazione del contratto questo inficiava dal punto di vista tributario perché qualora un contratto veniva registrato prima del 31 dicembre 2015 tardivamente rispetto ai 30 giorni questo comportava l'impossibilità per il locatore di optare per l'acetorale secca per l'anno successivo al momento della registrazione tutto ciò non è più in vigore oramai perché entriamo nella parte un pochettino più tecnica come sottolineato dalla Cassazione del 2017 la 23601 che troviamo spesso nelle sentenze del Tribunale di Roma della sesta sezione quella prevista dalla finanziaria del 2005 è una monolità atipica diversa da quella civilistica dalla quale non condivide modalità di funzionamento ed effetti in quanto è derivante dalla carenza di un requisito extraformale di validità del contratto la registrazione e non da un difetto di un proprio elemento essenziale il che va a determinare una nulità virtuale ex articolo 1418 del codice civile definita funzionale per l'inattempimento dell'obbligo di registrazione e non una nulità testuale con conseguente sanabilità della stessa quindi la Cassazione a sezione unita 23601 del 2017 che ripeto si trova spessissimo il contratto produce i propri effetti fino a 30 giorni dalla sua stipulazione termine ultimo per effettuare la registrazione diviene nullo purché non viene registrato nel tempo ma poi rivive con effetti retroattivi nel momento futuro seppur remoto in cui sia tardivamente registrato pertanto fin quando non viene registrato è nullo ma la sanabilità è abbastanza chiara ed opera ex tunc dal momento in cui viene registrato il rapporto contrattuale e questa nulità è rilevabile d'ufficio o no da parte del giudice e sì certo la nullità è rilevabile d'ufficio anche nei procedimenti di sfratto perché ci si è chiesti se possa essere superato dalla cosiddetta ficta confezio o comunque dalla non opposizione del convenuto e qui contento l'avvocato di Stefano e che in dottrina di Marzio nel procedimento per convalida di sfratto dice che è pacifico nell'affermare che la natura giurisdizionale e la forza di giudicato dell'ordinanza di convalida impongono al giudice ancor prima di prendere atto della mancata comparizione o eventuale opposizione dell'intimato di procedere d'ufficio all'esame della sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione verificando l'esistenza dei presupposti speciali di ammissibilità del procedimento tra i presupposti quindi da verificare da parte del giudice c'è certamente come presupposto e condizione l'esistenza di un contratto di locazione valido il rilievo ufficioso della nullità contrattuale da parte del giudice non attiene soltanto alle azioni di impugnativa negoziale ma invece anche la domanda del risarcimento d'anni per l'inattempimento contrattuale che sia stata proposta in via autonoma da quella impugnazione del presupposto contratto ma quali azioni sono esperibili in presenza di un contratto di locazione non registrato da parte del locatore e qui diventa un grossissimo problema perché il locatore non potrà esperire nessuna azione contrattuale ovvero quelle azioni che presuppongono l'esistenza di un contratto valido quindi azioni di soluzione sia in forma ordinaria con un 447 che attraverso la procedura di sfratto 657 o 658 del coce di procedura civile non potrà neanche invocare le norme codicistiche che vanno a regolamentare i contratti di locazione quindi 1571 e seguenti del codice civile tutte queste azioni vanno a presupporre l'esistenza di un contratto valido il locatore potrà agire tuttavia per occupazione senza titolo però andandosi esporre chiaramente ad eventuali eccezioni da parte del conduttore quanto al conduttore invece in caso di nullità del contratto quindi ma può richiedere indietro l'intero indebito versato qualora ci sia un indebito versato e su questo la recente Cassazione la 3971 del 2019 ha ribadito che non spetta la ripetizione dei canoni versati in esecuzione di un contratto nullo precisando che qualora un contratto di locazione sia dichiarato nullo conseguendo in linea di principio a detta dichiarazione il diritto per ciascuna parte ovviamente di ripetere la prestazione effettuata tuttavia la parte che abbia usufruito del godimento dell'immobile non può andare a pretendere la restituzione di quanto abbia versato a titolo di corrispettivo di tale godimento in quanto ciò comporterebbe chiaramente un indebito arricchimento in danno del locatore ma come si va a liquidare quindi il danno da occupazione illegittima in questo caso nella liquidazione a favore del proprietario del danno da occupazione illegittima scusate se vado un pochettino più rapido ma il tempo è strettissimo vedo che ci sono due minuti di recupero nella liquidazione a favore del proprietario del danno da occupazione illegittima come nel caso di richiesta del conduttore di restituzione di quanto versato a titolo di canoni in esecuzione di un contratto nullo non potrà tenersi conto della circostanza che le parti hanno entrambe contribuito consapevolmente a ristaurare un rapporto nullo tanto che nessuna delle due parti è andata a registrare il contratto non è ipotizzabile dall'altra parte non è ipotizzabile neanche l'integrale restituzione al conduttore di quanto versato in adempimento del contratto nullo e qui si ritiene che nella liquidazione del danno patito dall'allocatore allora per l'eventuale determinazione degli importi da restituire al conduttore possa farsi applicazione al 1227 del codice civile che in presenza di un fatto colposo del creditore che ha concorso a cagionare il danno in questo caso ha consegnato l'immobile ma non ha stipulato contestualmente il contratto di locazione consenta al giudice di diminuire il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate un'ultima cosa salto la parte ma un elemento fondamentale è quello del momento fino al quale può essere registrato il rapporto contrattuale cioè ormai la giurisprudenza maggioritaria è uniformemente uniorientata nel retenere l'efficacia retroattiva ovviamente della registrazione del contratto di locazione ma fino a quando e qui il tribunale di Roma con una sentenza 3447 del 2020 del giudice Nardone va a specificare che la registrazione tardiva può intervenire così sanando con effetto retroattivo il contratto fino al passaggio ingiudicato della sentenza che ha dichiarato un'annualità del negozio e questo ce l'aveva già detto la dottoressa Nardone all'interno del nostro corso annuale avevo fatto una piccola parte su quello che era il danno il pregiudizio fra il locatore e il conduttore ma lascio lo spazio a Mario Pinchera vi ringrazio ancora per avermi dato questa opportunità e ringrazio i presenti grazie veramente all'avvocato Bocchini per la sintesi e la completezza però del suo intervento su un profilo abbastanza rilevante quello fiscale del contratto di locazione grazie veramente prima di passare la parola a Mario Pinchera per le conclusioni e vorrei ricordare per chi fosse interessato che il 29 di questo mese sempre dalle 12 alle 14 terremo l'ultimo evento formativo organizzato dalla commissione condomini e locazioni per questo quadriegno poi il nuovo consiglio dell'ordine vedrà come regolarsi in materia condominiale terremo questo evento formativo anche su alcuni profili molto interessanti penso all'assemblee condominiali telematiche quindi chi vorrà partecipare ovviamente noi siamo ben contenti e disponibili ad accettare le iscrizioni poi sarà data pubblicità mediante locandina a questo punto do la parola a Mario Pinchera per le conclusioni grazie Mario sì grazie Paolo grazie a diciamo alla possibilità di fare una conclusione anche se con due minuti effettivi e due di recupero quindi cercherò di sintetizzare ho intenzione di fare una conclusione più da spettatore di questi interventi ai quali sicuramente non saprei dare un apporto ulteriore in quanto sono stati assolutamente esaustivi io vorrei fare questa riflessione una riflessione che riguarda questo ambito questo ambito abitativo soprattutto nella scorta di una carenza abitativa e di una crisi economica come quella che stiamo affrontando e sul anche la luce degli interventi che si sono susseguiti sulla qualificazione di quale sia poi il soggetto debole cioè non c'è più un soggetto debole ma secondo me c'è una guerra fra poveri perché è proprio questo che si sta verificando sia da un lato dal punto di vista dei redditi che si abbassano e investe anche ulteriori fasce anche con redditi superiori ma anche dalla parte dei locatori che molte volte alla locazione scelgono la non locazione e questo fenomeno peraltro rendendo ancora meno appetibile meno ampio lo spazio nel quale poter diciamo contrattualizzare determinate circostanze anche una pericolosa deriva io posso portare questo aspetto personale come tutti hanno portato dell'aumento non lo dico soltanto io ma lo dicono anche studi statistici di un aumento delle fattispecie di rilevanza penale in ambiente proprio di locazione dove da un lato aumentano i due reati principali sono l'esercizio arbitrario della violenza sulle proprie ragioni con violenza sulle cose da parte del locatore il classico esempio del cambio della serratura o di tutti gli effetti personali sul pianerottolo e dall'altro anche dell'insorvenza fraudolenta da parte dei soggetti dei conduttori degli immobili che titoli in bianco oppure simulano determinati di pagamenti che non esistono questo è ovvio poi ci sono anche reati più grossi più gravi che non sto a citare che poi implicano tipo la calunnia l'estorsione le varie violenze private e questa particolosa deriva che cosa fa per concludere sull'argomento che proprio l'intervento della giurisprudenza che si trova in un contesto normativo dove una parola citata prima c'è un provvedimento giudiziale che non avrà mai esecuzione questo sicuramente è un paradosso che nel nostro ordinamento non deve esistere quindi è ovvio che in questo ambito muoversi sarà sempre difficile ed è necessario un intervento ovviamente normativo noi però siamo avvocati citando il collega di Stefano che prima ha detto io sono capa tosta e quindi vado avanti il compito di noi avvocati è proprio quello cioè di approfondire grazie alla commissione con questi approfondimenti molto tecnici e molto formativi per l'avvocatura quindi di insistere come avvocati davanti ai magistrati che molte delle volte fanno delle affermazioni approssimative sono i primi loro stessi quindi noi di insistere e cercare di assicurare in un periodo così un riequilibrio fra non più soggetti deboli ma nei confronti di due soggetti contrattuali grazie grazie Mario arrivederci a tutti grazie ancora ai relatori alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti